Dopo oltre 14 mesi ci arriva finalmente risposta dal governo regionale rispetto ad una nostra interrogazione sui incentivi economici per l'incremento delle presenze turistiche verso l'aeroporto di Comiso, presentata il 24 luglio del 2018, con la quale sollecitavamo l'assessorato regionale del turismo e le commissioni di competenza ad approvare il progetto della Società di Gestione dello Scalo Comisano, presentato il 4 giugno dello stesso anno, entro i 30 giorni fissati dal crono programma condiviso e quindi senza ulteriore ritardo. Lo rileva la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo, che solo nei giorni scorsi in sede di discussione del collegato alla finanziaria ha ricevuto una risposta quanto mai tardiva. Di fatti sarebbe stato quantomeno imbarazzante ammettere che da una parte il ritardo di circa due mesi accumulato dall'assessorato al turismo per valutare il progetto presentato da Soaco e dall'altra le colpe della stessa Soaco per aver presentato il progetto solo ad inizio giugno 2018, perdendo di fatto i voli per l'estate 2019, avevano reso praticamente inutile il bando da 15 milioni e mezzo, previsto per ben 15 rotte dell'autunno 2018, visto l'estremo ritardo con cui era stato pubblicato. A quel bando infatti parteciparono solo due compagnie per due sole rotte, una per la Germania e l'altra per Torino, quindi due rotte su 15 possibili, un vero e proprio flop sulla pelle dei cittadini. Ma la cosa ancora più incredibile, prosegue la deputata Iblea, è che anche queste due rotte non si sono mai concretizzate. Le uniche due compagnie che parteciparono forse non sono mai state ammesse nelle condizioni di poter lavorare serenamente e con fiducia. Non si sa, così come non si sa che cosa intenda fare la Soaco con questi 15 milioni e mezzo e con altri 1,9 milioni dei fondi ex Insicem. È mai possibile tenere fermi 17,4 milioni di euro pubblici per più di 15 mesi? I dati di quest'estate d'altronde sono chiari e netti. I passeggeri sono calati dai consuliti 45.000 a soli 30.000, quindi 15.000 in meno. Un calo percentuale del 33% senza che nessuno abbia avuto il coraggio di assumersene le responsabilità. In questo contesto Comiso viene costretta strategicamente ad un ruolo di ruotino di scorta dell'aeroporto di Catania. E da qualche settimana siamo stati messi anche a conoscenza della cancellazione, a partire dal 28 ottobre, di numerose tratte da parte di Ryanair. Niente più Londra, niente più Roma, niente più Dusseldorf. Ma allora, cosa ci resta ad oggi per l'aeroporto di Comiso? Siamo per una gestione a rete di tutto il sistema aeroportuale siciliano, conclude Stefania Campo. Una gestione pubblica affidata a persone competenti, slegate dalla politica partitocratica di sempre. Se infatti qualcuno si era convinto che facendo funzionare strutturalmente male gli aeroporti pubblici attuali sarebbe riuscito a convincerci della bontà dei propri piani di privatizzazione selvaggia, si sbagliava di grosso. Proprio lo scorso 23 settembre il nostro gruppo parlamentare ha infatti depositato il proprio disegno di lerge, norme per l'istituzione del sistema aeroportuale delle isole siciliane.